Più di 25 milioni di euro a favore delle imprese campane per la realizzazione di interventi di prevenzione finalizzati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono i fondi stanziati dall'Inail per le aziende virtuose della Campania. Diverse le iniziative intraprese per illustrare le modalità di presentazione delle domande utili ad accedere ai finanziamenti. In particolare vengono finanziati progetti di investimento per l'adozione di nuovi modelli organizzativi e di responsabilità sociale e, novità dal bando progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, per i quali è previsto un finanziamento di 7 milioni e mezzo. Alla reggia di Quisisana di Castellammare di Stabbia si è svolta una delle tappe informative promosse dall'Inail sull'intero territorio campano. Davanti ad un affollato e attento auditorio, i rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro hanno illustrato le peculiarità dell'iniziativa. Tra gli interventi, quelli del responsabile della sede Inail Stabbiese, Vincenzo Ammirato, e del direttore territoriale Grazia Memmolo. Molto apprezzato l'intervento del presidente provinciale di Confimprenditori Napoli, Alessandro Piro, che ha parlato agli imprenditori non solo dell'importanza dei finanziamenti messi a disposizione dall'Inail, per una buona parte, ha detto, a fondo perduto, ma anche della necessità per le micro, piccole e medie imprese di puntare ad un dinamico e virtuoso metodo di fare sicurezza, che significa miglioramento della qualità del lavoro e conseguente riduzione dei rischi di infortuni. A Confimprenditori Napoli, tutti, a partire dai vertici dell'Inail, riconoscono il fondamentale ruolo di trade union tra aziende e istituzioni, fungendo da naturale supporto per le imprese, a cui viene fornito un adeguato accompagnamento verso quella che è considerata, a giusta ragione, una grande opportunità di crescita.